Musica Amici di Teleuniverso, ben trovati. La regione Lazio si prepara a dare una sfoltita al sistema di potere e di governo dei territori. Cambiano le regole per il mondo agricolo e cambiano in una direzione che va verso la qualità, va verso una maggiore tutela dei consumatori. Il mondo economico si confronta nella sede della Camera di Commercio, analizza i dati dell'ultimo quinquennio e scopre dei dati che sono luci ed ombre del nostro modo di vivere in questo periodo. Ne parliamo con il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese. Bentornato Presidente. Salve a tutti. Presidente, cominciamo da una cosa che lei aveva detto una settimana fa. Parlando di questo convegno che c'era stato a Roma, aveva annunciato un riordino del sistema di governo e del sistema di potere sul territorio del Lazio. A stretto giro la Giunta regionale ha approvato il documento che in pratica dà il via all'iter per eliminare le comunità montane. Per lei che viene da un comparto molto importante, è stato per anni amministratore del territorio, è stato per anni uno dei vertici della Col di Retti, non ritiene che possano avere un minimo di ragione coloro i quali dicono che le comunità montane sono fondamentali per tutelare il territorio? Ma qui non vogliamo mettere sul banco degli accusati le comunità montane, quindi non ci interessa ragionare in questa direzione. Noi vogliamo semplicemente riformare il nostro sistema, il nostro assetto organizzativo nella nostra regione, quindi da uno studio approfondito che l'Aecre ci ha consegnato, il cui Presidente Renato Robilotta poi ha investito sia la Giunta che il Consiglio ad un confronto serio su questo argomento ha messo in risalto che nella nostra regione ci sono ben 12 livelli di governo che ovviamente il nostro sistema non riesce più a mantenere e soprattutto non riesce più a sopportare. Quindi dobbiamo modernizzare la nostra regione come è auspicabile la modernizzazione del nostro Stato centrale, perché anche lì stanno discutendo per semplificare ovviamente l'architettura costituzionale e istituzionale e quindi anche noi ci stiamo dedicando a questo tema con grande interesse. Quindi una prima proposta già arrivata, se vuole ne parliamo magari con più così... Senza entrare nei dettagli Presidente, però quanto risparmieremo secondo questa bozza che le è arrivate? E soprattutto, come si dice da queste parti, la spesa vale l'impresa? Nel senso c'è il rischio comunque che aumentino le difficoltà sul fronte della prevenzione degli incendi, sulla tutela del territorio montano. La spesa vale l'impresa? Ma certo che vale l'impresa. Qui non è un problema tanto di spesa, è anche un problema di spesa, è anche un intervento per disboscare una serie di enti inutili che si sovrappongono. Per esempio le comunità montane non è che si interessano solo della montagna. Qui parliamo di comunità montane a 40 metri sul livello del mare, quindi stiamo parlando di un qualcosa che ovviamente non genera un risultato straordinario per il territorio, perché quando vediamo che le comunità montane si occupano di asfaltare le strade, quando le strade sono di competenza magari dei comuni o delle province, significa andare a sovrapporre una serie di interventi, una serie di finanziamenti che servono solo a creare un altro elemento di spesa. Però diciamo con questa legge di riordino noi vogliamo iniziare un processo di rinnovamento all'interno del nostro sistema laziale, quindi abbiamo presentato, l'assessore Cangemi ha presentato una proposta di legge che io ho assegnato immediatamente alla commissione competente per l'abolizione delle comunità montane, quindi si riferisce a 22 comunità montane che hanno il compito, fino ad oggi avevano il compito di tutelare esclusivamente quei territori svantaggiati. Quindi entro 30 giorni dall'approvazione di questa legge, i presidenti dovranno provvedere alla ricognizione complessiva delle attività delle pressività e subito dopo, entro 180 giorni, verrà nominato un commissario ad acta per così liquidare e ripartire pro quota le attività, le passività agli attori interessati. Quindi è un messaggio serio che noi vogliamo trasmettere ai cittadini, è un messaggio serio che noi vogliamo trasmettere alle nostre imprese, dobbiamo abbassare il livello di burocrazia. Guardi, nella nostra regione ci sono 378 comuni, 5 province, 22 comunità montane, 10 consorsi di bonifica, comunità comunali, Ato, Als, 81 università agrarie, quindi una serie di livelli che fanno paura e che chiaramente mettono in difficoltà soprattutto chi oggi vuole lavorare senza pastoie burocratiche. Quindi c'è la possibilità di farlo, dobbiamo avere il coraggio anche di assumerci queste responsabilità, lo stiamo facendo, siamo convinti di andare nella direzione giusta, ma soprattutto alla luce anche dello svuotamento delle province, perché non dimentichiamo che le province con la legge che è stata approvata non avranno più modo di esistere come sono concepite oggi, quindi anche in questo caso la regione deve legiferare per quanto riguarda poteri e funzioni e soprattutto la regione vuole anche interessarsi degli ato, quindi sappiamo che i comuni inferiori ai 1000 abitanti dovranno essere costituiti in unione dei comuni e qui la legge prevede 10.000 abitanti, un bacino di 10.000 abitanti, però in questo campo può legiferare anche la regione per rimodellare anche l'indirizzo di governo nazionale. Quindi noi vogliamo occuparci di questo argomento, una materia che riguarda soprattutto lo sviluppo economico della nostra regione. Presidente, non sappiamo più cosa mangiamo, lo sentiamo dire praticamente ogni giorno quando ci mettiamo a tavola, quando era in Coldiretti lei rispose tracciabilità, ora che è in regione passa finalmente questa legge, che cosa significa tracciabilità, cosa cambia per noi consumatori? Intanto le organizzazioni agricole, ma devo dire in modo particolare la Coldiretti sta facendo una bandiera sull'alimentazione, sulla qualità dell'alimentazione, soprattutto con il rapporto con i consumatori. Quindi noi dobbiamo assicurare attraverso norme precise, in questo caso il Consiglio regionale, devo dire anche con grande responsabilità da parte delle opposizioni perché hanno votato a favore questo testo di legge, la Regione Lazio ha una legge che controlla dall'inizio alla fine tutto il percorso storico del prodotto agricolo, prima che lo stesso va sul mercato per essere poi consumato dai cittadini. Quindi noi abbiamo voluto creare questo albo regionale del Made in Lazio, ovviamente per rafforzare le nostre tipicità, perché rafforzando le nostre tipicità significa rafforzare le nostre imprese, significa rafforzare l'economia dell'agricoltura laziale, un'economia importante nel nostro sistema economico regionale e attraverso questa legge di tracciabilità ovviamente il consumatore, la massaia che si rega presso i centri commerciali non potranno essere più truffate perché alla fine spesso capita di acquistare prodotti agricoli Made in Italy che magari sono stati prodotti in Cina oppure che non hanno nulla a che fare con i nostri prodotti tipici locali. Questa contraffazione ovviamente mettono in risalto due aspetti negativi. Uno, che le imprese che lavorano con grande serietà e soprattutto si impegnano a rendere visibile la coltivazione del proprio prodotto attraverso la tracciabilità ottengono un risultato negativo in termini economici. Due, c'è ovviamente un tipo di concorrenza sleale che mette in difficoltà tutto l'intero comparto. Ecco, attraverso questa legge ovviamente noi lavoriamo per combattere e per arginare questo fenomeno. Presidente, in mattinata presso la Camera di Commercio di Frosinone.